Il secondo round con la Formula Open che sta per iniziare con i semafori, si vanno ad accendere, occhio come sempre, rilascio della frizione vitale per arrivare per primo lì davanti con il Musso davanti a tutti gli altri alla staccata di curva 1, lunghissima salita verso destra, sarà una scalata, è partita male una Ferrari nel retrovie, dovrebbe essere proprio lo TR. ...che abbastanza ucciti, abbastanza puliti, è stato ottimo, quindi lo scatto di Lollagri che si è difeso bene, è pessimo come detto Nexus, nella norma Re, Dete, poi tutto il gruppone che si stona verso la staccata di curva 4 con Nexus, in verità ci ha provato a riprendere la posizione su Kingkaboy. Nane di gara, tutte le 3G si entrano ad incrociare, c'è Bapucci che si è girato, Bapucci si è girato in trazione, proprio in tornantino, era abbastanza tipico, l'abbiamo visto, attenzione che Kingkaboy comincia al passo all'esterno, in curva 1, ne ha di più, vediamo se riesce ad avere la meglio, alla fine di curva 2, vediamo Kingkaboy ha la meglio, ha la meglio però, però attenzione, bella manovra assolutamente, però attenzione perché adesso, adesso vedete, si butta, si butta, ma va a lungo, quasi si intraversa. bella, staccata un'imperdizione. Jack, Kingkaboy con Nexus all'ultima curva, Nexus all'esterno con Kingkaboy che nasce al minimo dello spazio, è stato bravo Nexus ad uscire, attenzione a Pierre che vorrebbe approfittare sono i punti di risultato, in parte come fosse Pierre, vediamo se ci prova, hanno spazio per faccela, forse in contatto con Kingkaboy veramente si sfiorano l'incrocio di Nexus, ottimo l'incrocio di Nexus che arriva in contatto con la pancia di Kingkaboy, di nuovo Pierre che tenta che non è un incrocio, non si sono… escono da questa curva come se fosse successo lui, si è, eh, si è… Grazie per la visione! 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 Sì, che è incrocio! Oh! Flap vola io! No, non credo! No, non credo!